Non c'è mai il tempo per spiegarci, va bene, non c'è tempo, tu capisci quello che ti pare a te, io perché non ho detto questo, ma è possibile che non ci si può mai capire, ma se non c'è il tempo per farlo, il tempo per... E comunque non parlavo di acqua, non parlavo di acqua, non parlavo di quello, non parlavo di quell'altro, hai capito, tu so quello che ti pare, va bene, allora fai come ti pare, vai, fai come ti pare, vai! No, non l'ho detto questo, non l'ho detto questo, capito? Non l'ho detto, l'hai detto, te l'hai detto, prima l'hai detto, anche l'altro ieri, anche l'altro ieri, l'hai detto, anche l'altro ieri, l'hai detto, lo dici sempre, lo diciamo ogni giorno, lo dici! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti